ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo volevo subito ricordare che questi sono degli interattivi e come tali adottate ciò che le carte vi comunicano alla vostra situazione attuale e al vostro settore di interesse che esso sia amore lavoro fortuna famiglia o personale i video hanno validità dal momento in cui se ne prende visione anche se la data di pubblicazione è già superata dal momento in cui si prende visione tranne quelli che hanno riferimenti o date a un periodo specifico per i video sullo zodiaco il mio consiglio è di ascoltare anche il tuo scendente il segno dove si trova la luna nel tuo tema natale per tutto ciò che riguarda le tue emozioni le intuizioni e ciò che senti dentro di te il segno in cui si trova giove per il lavoro il denaro la carriera le ambizioni gli obiettivi e ciò che si realizza in maniera concreta il segno in cui si trova venere per la famiglia l'amore i rapporti con le persone sia quella che quelle che già conosci sia per quelle che conoscerai si eseguono rituali di purificazione energetica contro malocchio negatività invidi e gelosie con stampa digitale personalizzata da scaricare gratuitamente stampare le letture di cartomanzia personalizzata ricerca e spiegazione del proprio numero personale numero del destino attraverso la data di nascita ed il nome per sapere il tuo scopo in questa esistenza evolutiva dell'anima e cosa significa il colore della tua aura e quali benefici porta alla tua persona attivazione delle rune magiche per ogni vostra esigenza con possibile stampa digitale su richiesta da scaricare gratuitamente e stampare per ricevere tutte le info necessarie e procedere a come fare per avere tutto ciò di cui si ha bisogno sotto ogni video trovate i miei contatti numero whatsapp solo messaggi e indirizzo e mail vi ricordo che tutti i servizi da me offerti sono su prenotazione grazie per l'attenzione vi lascio alla visione del video bene iniziamo subito con il vedere quale segreto mi nasconde lo andremo sempre a fare con il metodo dei segni e dei e degli elementi ma questa volta andremo a vedere una stesa per tutti e tre i segni zodiacali e poi come sempre un messaggio con i miei oracoli per quanto una parola chiave per quanto riguarda ogni segno e allora iniziamo subito con l'elemento aria mettiamo subito qua i nostri tre segni zodiacali che sono gemelli bilancia e acquario vediamo innanzitutto qual è il il messaggio e che cosa vi nasconde la persona a cui voi state pensando innanzitutto andremo a vedere che tipo di persona è questa persona che vi sta nascondendo un qualcosa o che magari voi state in questo momento pensando che vi sta nascondendo un qualcosa allora abbiamo come elementi abbiamo pignolo è irresponsabile ne andiamo a prendere semplicemente tre vediamo per i segni d'aria qual è la caratteristica di questa persona che sta tenendo un segreto ai nostri segni d'aria vediamo un po così voi lo potrete andare a riconoscere vediamo un po di che cosa parliamo di chi parliamo innanzitutto ok andiamo a vedere amorevole perciò è una persona che si dimostra con voi amorevole che sembra affettuosa però nello stesso tempo è irresponsabile è molto è molto pignola perciò questa è la caratteristica della persona che voi potrete riconoscere che in questo momento vi sta nascondendo un qualcosa allora andiamo a vedere con i miei oracoli se riusciamo a capire qual è l'argomento di questo segreto questo sempre in linea generale per tutti e tre i segni vediamo vediamo qual è l'argomento che riguarda questo segreto che viene nascosto ai nostri tre segni d'aria vediamo un po allora allora devi rimettere in ordine qualcosa perciò c'è un qualcosa con questa persona dove voi già avete una sorta di battibecco c'è già un qualcosa un attrito fra voi e questa persona ed è un qualcosa che dovete rimettere in ordine è un qualcosa che questa persona pensa di dover rimettere in ordine con voi la solita bellissima carta che cade ormai è un appuntamento consueto qualcuno si è pentito potrebbe anche essere una persona che già in passato vi aveva nascosto qualcosa e voi lo avevate perdonato e si era e si era pentito però adesso sta ritornando sempre con lo stesso problema vedete qualcuno vuole convincervi perciò è già una 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 persona che voi potete riconoscere perché è qualcuno che già in passato vi ha combinato una maraghella o qualcosa che a voi ha dato molto fastidio ha cercato di rimettere in ordine le cose magari fra di voi le cose si sono appianate però in questo periodo questo tipo di persona sta cercando di convincervi di una determinata situazione magari vi vuol convincere di un qualcosa appunto per farvi credere e per continuare a nascondere quello che è appunto questo segreto vediamo un attimo per quanto riguarda i sentimenti che cosa ci dicono le carte se dovesse essere una situazione sentimentale o se avete con questa persona un legame sentimentale vedete perdono guardate perdono e qualcuno si è pentito questa situazione potrebbe richiedere uno sforzo qualcuno potrebbe chiedervi perdono per errori commessi potrebbe anche essere che è una terza persona che sta chiedendo al soggetto con queste caratteristiche di fare da intermediario e perciò vuole convincervi a perdonare un qualcuno vedete incomprensioni caratteriali questa situazione non è stabile le comprensioni e differenze caratteriali ostacolano il vostro percorso insieme è necessario lavorare su problemi della coppia diciamo in genere coppia si intende in questo momento si intende appunto un qualcuno che ha a che fare con voi allora adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono i tarocchi vediamo se riusciamo a capire di che cosa si tratta questo segreto che questa persona sta cercando di nascondere allora vediamo un po per i segni d'aria qual è questo segreto allora abbiamo il nove di bastoni perciò abbiamo un qualcuno con cui voi avete alzato delle barriere è un qualcuno con cui voi diciamo avete un pochettino allontanato sicuramente è un qualcuno di cui voi già non vi fidate abbastanza questo qualcuno vi vuol far credere che è cambiato che la situazione con voi è cambiata è che è una persona stabile una persona importante una persona con un grande carisma è come se vi volesse far credere che il suo è stato semplicemente un momento ma adesso è più sa quello che vuole sa come ottenerlo ha una forte energia una forte capacità di persuasione una persona molto carismatica questo è quello che vi vuol far credere poi abbiamo vedete potrebbe essere una persona che sta bene economicamente potrebbe essere un datore di lavoro potrebbe essere anche una persona con cui lavorate è una persona molto concreta è una persona che però mette avanti quello che è il materiale quelle che sono le cose materiali piuttosto che i sentimenti e poi abbiamo una persona che diciamo tende a difendersi ci saranno delle notizie in arrivo per quanto riguarda questo soggetto però è una persona che diciamo butta la pietra e nasconde la mano in che senso perché sta cercando di convincervi però allo stesso tempo si guarda le spalle e anche voi vi dovreste guardare le spalle da questa persona e qui ci sono appunto delle notizie che stanno arrivando che riguardano appunto la situazione che avete con questa parte andiamo a vedere ancora che cosa ci dicono le sibille per quanto riguarda questo segreto che nasconde vedete invidia tutto parte dall'invidia come sempre il dolore cioè proprio ci soffre ci soffre a non riuscire a convincervi di quello che vuole vediamo un po' ancora abbiamo malattie e fortuna secondo me questa persona è invidiosa del vostro tipo di successo nel senso è invidiosa della vostra persona è invidiosa di tutto ciò che voi riuscite a fare anche quando diciamo conoscete un soggetto nuovo e magari questo soggetto è subito attratto da voi c'è molta invidia vedete e c'è l'impossibilità cioè questa persona si vede nell'impossibilità di arrivare ai vostri livelli questo è in linea generale quello che questa persona vi sta nascondendo e quali sono le sue caratteristiche adesso andiamo a vedere segno per segno che cosa ci dicono i miei oracoli per avere ancora di più un approfondimento per quanto riguarda ogni segno zodiacale allora adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono gli oracoli per quanto riguarda il segno zodiacale dei gemelli vediamo che parola chiave esce fuori per quanto riguarda il segno vedete nascondere ai gemelli qualcosa viene nascosto vediamo nascondere c'è un qualcuno che proprio non dice quello che realmente pensa assolutissimamente poi abbiamo sogni ecco i gemelli devono cercare più che mai di nascondere quello che sono i loro sogni i loro desideri e di non parlarne con nessuno e poi abbiamo indecisione se voi gemelli siete indecisi nel confidarvi con qualcuno mi raccomando non lo fate assolutissimamente vediamo per quanto riguarda il segno zodiacale della bilancia abbiamo sensi di colpa voi magari vi sentite pure in colpa verso questa persona e invece non lo dovete fare vedete c'è la soluzione per quanto riguarda la bilancia e poi c'è la passione cercate di mettere più passione in quello che volete voi lasciateli stare i sensi di colpa la soluzione per questi sensi di colpa per la bilancia è appunto la passione che voi mettete in ciò che vi piace e adesso andiamo a vedere per l'acquario cosa abbiamo per l'acquario abbiamo una bella gelosia poi abbiamo sentimenti e abbiamo spiare qualcuno che spia l'acquario segno dell'acquario mi raccomando fate attenzione a ciò che postate sui social perché qua c'è qualcuno che spia qualcuno che prova dei sentimenti per voi e vi sta spiando in questo momento vi sta spiando perché magari anche l'altra persona vuole capire qualche segreto magari faccio un'ipotesi l'acquario in questo momento si è magari allontanato da una persona ma questa persona non si dà pace per questo allontanamento e di conseguenza tenta di spiare il più possibile quello che è diciamo la vita privata dell'acquario per quanto riguarda la bilancia la passione in tutto quello che fa della soluzione a questi sensi di colpa i gemelli devono cercare di non essere indecisi e di non parlare con nessuno di quelli che sono i propri sogni e desideri benissimo segni d'aria io spero che questo format di video vi piaccia mi raccomando fatemelo sapere nei commenti io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima